Allora stiamo terminando la linea di taglio del cambio di ciglia, facciamo la texturizzazione e poi gli diamo una sistematina con la piega, ma già vediamo un po' la linea. Questa è la texturizzazione. Vediamo come si realizza per nà. Si entra con la punta della corvide fine all'interno della struttura del capello. E il risultato finale? Sarà di leggerezza. Ok.